Posso farti una domanda? Ma tu chi segui nei social? Cioè, quali sono i video, le quotes che ti compaiono quando tu scorri il tuo feed, quando sei sul tuo social di riferimento preferito? Perché? Perché quelle cose ti influenzano. Io ho fatto in maniera, poiché lo sai, esiste un algoritmo che sceglie per te che cosa farti vedere e in che modo lo sceglie. Beh, guarda su cosa ti soffermi. Se tu ti sei soffermato su cose, ad esempio, sugli incidenti stradali, piuttosto che pestaggi, liti, furiose, e continuerai a proporti quelle cose perché immagina che a te interessino. Bene, io ho addestrato i miei social a farmi vedere cose che riguardano lo sport, riguardano la motivazione, riguardano il business, riguardano delle cose che ovviamente mi interessano, ma che quotidianamente possono influenzarmi positivamente. Perché? Perché noi, il nostro inconscio, fa di tutto per rimanere coerente e comportarsi in maniera allineata a quello che sono le influenze delle persone che noi frequentiamo. E tutto sommato, quello che ci compare sui social è un po' come una volta le persone che incontravamo in piazza quando scendevamo da casa.